E adesso sono veramente molto felice di chiamare sul palco Roberta Zantedeschi, Pamela Nerattini e Fabiana Palù. Ciao! Da Freelance a Cirova Tutta, no? Grazie! Ciao a tutti e a tutte! Io sono Pamela e vengo da Torino. Io sono Fabiana e ando da Venezia. Roberta è dalla provincia di Vicenza. Allora, oggi noi vi parliamo di una storia, della nostra storia, di come siamo passati da essere Freelance ad essere un brand. Freelance che si sono incontrate a Freelance Camp. Quindi diciamo che il Freelance Camp per noi è stato autore di quello che poi è successo anni dopo. Quindi quello che vogliamo portare è un po' a fare il percorso che ha più occupato noi, per chi di voi sta magari pensando di iniziare delle collaborazioni con qualcuno. quindi prima domanda che io vi pongo è i pro e i contro di essere Freelance. Iniziamo dai pro e io vengo col microfono. I pro di essere Freelance. Abbiamo scelto di essere Freelance, quindi ci saranno dei pro. Libertà, libertà, poi autonomia, crescita personale, creatività. Non dover gestire altre persone. Ma io che costa meno, costa meno, costa meno. Poter gestire il proprio tempo. Poter dirti no, poter scegliere le cose belle. Ok, Fabiano scrive. Passiamo invece al contro. Non sono tutte rose e fiori essere Freelance, lo sappiamo bene. Solitudine. Possibilità di raggiungere dei clienti più grossi. Non ti pagano le ferie nella malattia. Fare le fatture. La lead generation, sempre lì a cercar clienti. La lead generation. Incertezza. L'incertezza. Dover gestire contemporaneamente più ruoli e mettersi tanti cappelli che non sempre richiedono la stessa struttura di personalità per tutte le competenze. Farsi pagare. Essere l'unico responsabile. Non poter far finta di lavorare. Dover imparare ad assurprezzo è delicissimo. Secondo me, tutto quello che avete detto è vero, io quello che ho trovato anche come contro era quello che io dovevo parlare un sacco di cose. Cioè dovevo essere una tutologa in qualche modo e quindi dover sapere molte più cose anziché da riscaldarsi. Quello è stato un po' un problema, un mio contro all'inizio. Allora, io non ho trovato un contro, un pro, scusate, che per me era la possibilità di gestire un cliente in maniera autonoma. Cioè dal primo contatto e capire cosa aveva bisogno fino alla chiusura del progetto che per me era un pro. No, io l'unica osservazione che faccio, non so se è vostra, che per me alcuni contro sono dei pro e viceversa. Quindi c'è una visione molto soggettiva dell'essere freelance perché per me l'ampiezza delle competenze è quello che mi garantisce la varietà di cui ho bisogno. E guai se fossi verticale. In ogni caso, come vedete, allora, non abbiamo e non mettiamo ai voti, anche se qualcuno ha detto più volte, solitutto nei commenti che abbiamo sentito, ci fanno capire che molti di questi pro e contro sono comuni, tra virgolette, strutturali, oserei dire, cioè della posizione, della situazione della freelance tudine. È anche vero che in qualunque momento noi ci troviamo del nostro business e della nostra vita personale, noi prendiamo decisioni, invece, rispetto a quello che è importante per noi in quel momento, sul piano business e sul piano personale. Allora, qui vi proponiamo un'altra, come dire, esperienza veloce del passaggio che abbiamo fatto anche noi. Vi chiediamo di mettervi a coppie, velocemente, e di parlare tra voi, scambiando per tre minuti, quattro minuti, quello che per voi è importante in questo momento, sul piano personale, sul piano del business, per riuscire ad avere chiare un paio di priorità personali o di business che avete in questo momento. Teniamo noi tempo, facciamo partire il timer, via le chiacchiere. Cosa è importante oggi, quindi non dieci anni fa, quando avete fatto la scelta, tre anni fa, rispetto alle vostre priorità, o di vita personale, o di vita lavorativa? O di che cosa avete voi entrambe? Di cosa avreste bisogno oggi? Qual è la cosa importante oggi? Poi dopo ci racconterete com'è andata questa chiacchierata, però intanto vi raccontiamo velocemente quali sono le cose importanti. Ognuna di noi ve le racconta, perché probabilmente, anzi, ce ne siamo forse scambiate, alcune sono simili, sono molto dugezze. Sono i criteri con cui poi abbiamo deciso di fare questo passo avanti. Allora, io che ho il microfono in mano, per me c'era una necessità, in questo momento, per diverse regioni di alleggerire, e per alleggerire, intendo, n.mila cose, quindi alleggerire, nel senso di alleggerire responsabilità, alleggerire tempi, alleggerire tipi di attività, sentire servizi, divertirmi di più, in questo momento della mia vita, più che in altri momenti ho voglia di divertirmi, scambiare pensieri e prospettive, solitudine, e poi, questo più lato personale, aspetti che riguardano il business, invece, sul fatto di voler alzare prezzi e standard di servizio, e scaricare a terra un valore con il cliente, nel senso di poter diventare un consulente di riferimento e, in qualche modo, poter presentare al cliente una, diciamo così, una gamma di servizi completi, quindi, alleggerire i miei, ma comunque voler rispondere a tutte le richieste del cliente. Queste sono le cose, per me, importanti oggi, piano business. Io un po' di cose che ha detto Fabiana le sottoscrivo, quindi non le ripeto per non rubare tempo. Per me c'era proprio anche il bisogno, lo sentivo da un po', di rimettermi a camminare con qualcuno. Trovo di fare strada insieme, perché questo mi garantisce l'alleggerimento, ma anche la capacità di portare più peso, che so che sembrano in contraddizione, ma in realtà, secondo me, sono molto collegate, mi garantisce il divertimento e mi garantisce una possibilità di apprendimento che è differente da quella che ho quando studio o quando imparo qualcosa perché sto lavorando dal cliente. Cioè, confrontarmi ogni giorno, ormai, da quasi un anno, con loro due, mi fa apprendere sia a tecnicismi, sia proprio stare in redazione e lavorare insieme. Poi per me c'era una cosa molto pratica, io voglio liberarmi di intermediari. Cioè, per me è importante riuscire ad andare diretta dai clienti e non dover passare per degli intermediari. L'altra cosa è legata al valore, potete avere più impatto, sentire che il mio impatto è più profondo e ugualmente ampio, cioè è altrettanto ampio, e un maggiore equilibrio vita-lavoro, chiamiamola così in maniera un po' banale. Ah, l'ultima cosa, ottimizzare il percorso fatto fino a qua, perché non sono proprio giovincella e a un certo punto dici, ma scusa, però tutto quello che abbiamo fatto fino a qua, come lo ottimizzo? Come lo massimizzo adesso? Brava, non gli veniva la parola. Come lo capitalizzo? Ecco, questo era un altro bisogno. Io che sono donna fatturato, l'obiettivo, perché mi sono scensato, io parlo spessissimo di soldi, dico le donne non parlano dei stessi soldi, io parlo di tutte e due, proprio tranquillamente. E per me era avere clienti distrutturati, perché? Perché i clienti grandi mi dicevano, sì, ok, io ci sei tu, e se tu ti rompi la gamba, che facciamo? Cioè avere anche qualcuno con cui poter scambiare, perché se non ci sono e succede qualcosa, come dicevano ieri, diventa un problema. L'altra cosa per me era, per noi, noi tre, uno più uno più uno non fa tre, ma fa nove, perché in qualche modo il fatto che ci scambiamo, che cresciamo insieme, è una crescita anche che poi portiamo al cliente. E io che sono anche una persona piuttosto egoista, io imparo più da loro che in un master. Quindi io solo perché mi confronto con loro, è così, beh, non ho detto che master. Non miseremo mai, hanno consulenze diverse, che è detto così, però. E questo per me erano le cose importanti che mi hanno fatto pensare che forse andare in tre poteva essere sicuramente divertente, ma poteva farmi crescere molto di più e molto più velocemente, perché quello che mi mancava dall'azienda era questo. L'azienda io avevo colleghi, quindi crescevo più facilmente, qui me la cantavo e me la suonavo. Facevo bene, facevo male, io non lo confronto. Ecco, quindi come ha già anticipato Pamela, adesso passiamo da un'analisi di cosa ci ha portato qua e quindi che cosa abbiamo fatto. Perché? Perché il passare da freelance individuali o anche solo freelance che collaborano e gestiscono insieme dei progetti a One Brand è stata la risposta che magari non va a colmare tutti i nostri bisogni e desideri, però come dire, è stata per noi, abbiamo individuato nel brand unico una risposta che poteva soddisfare molte delle nostre esigenze, anche se non necessariamente tutte, perché poi la formula perfetta non esiste. Quindi, cosa abbiamo fatto a partire da sostanzialmente un anno fa? Ok, più o meno un anno fa, quando abbiamo cominciato a parlarne. Allora, innanzitutto abbiamo verificato che ci fossero dei presupposti che con l'esperienza, insomma, abbiamo individuato essere necessari, altrimenti la collaborazione potrebbe non funzionare. Bene, diciamo alcuni di quelli che noi abbiamo individuato. Ecco, tutto quello che vi diciamo da adesso in poi è la nostra esperienza. Non è una ricetta, non lo trovate nei manuali, la vostra esperienza potrebbe arricchirsi di altre considerazioni e valutazioni. Però per noi, tra i presupposti, è stato fondamentale avere lo stesso target, cioè essere in accordo su a chi andiamo ad offrire i nostri servizi, che tipologia di cliente, che tipo di posizionamento vogliamo avere, come ci vogliamo posizionare? Anche su questo abbiamo in anticipo trovato un accordo. L'integrabilità delle nostre competenze. Adesso noi non stiamo che a raccontare cose, facciamo, chi ci conosce un po' lo sa, però ecco, alla base della nostra scelta c'è il fatto che abbiamo delle competenze che si integrano, che in parte si sovrappongono, perché se ci dividete potremmo anche un po' essere, e dico un termine che non ci piace, il competitor. Sia io con Fabiana, sia io con Pamela. Questa sovrapposizione in realtà però ci rende anche molto integrabili. È una metodologia comune di lavoro, perché va bene tutto, ma poi quando vai dal cliente, se hai tre metodi differenti di lavoro, il lavoro nostro per riuscire a portare un valore diventa complicato che potrebbe non generare quel valore. Su questo, un piccolo appunto, noi proprio abbiamo scelto delle metodologie di lavoro sulle quali formarci e anche, come dire, allinearci. C'era qualcuna, una di noi che magari era più preparata su una cosa e le altre si sono portate a livello. Stiamo lavorando in questo modo. Stiamo per avere strumenti condivisi e la stessa metodologia. E poi i valori. Cioè noi, vabbè, non l'ho detto, e ci piacciamo anche, perché ci piacciamo, andiamo d'accordo, ci vogliamo bene, ok. Però per essere più bassa, più profonda, ho valori, valori individuali, ok. Non sono tutti sovrapposti, però ce ne sono visti. E valori lavorativi, professionali, che hanno a che fare con quell'impatto che vogliamo portare sul, nel nostro caso, sul modo del lavoro. A questo punto noi, noi e voi, se farete un percorso simile, dovremmo prendere, e abbiamo dovuto prendere delle scelte, fare delle scelte. La prima scelta è stata quella di capire se volevamo, come pensavamo all'inizio, fare semplicemente un prodotto insieme, quindi vedere poi come andava. Creiamo qualche cosa insieme, lo apponiamo a quelli che sono già i nostri clienti e vediamo cosa succede. L'altra opzione, invece, che è stata quella che poi abbiamo seguito, è stata quella di creare, invece, un brand. E lì, la seconda domanda che si posta è stata, ok, ma è un business parallelo o è un business, è il nostro business principale? Anche lì abbiamo un discorso, perché non siamo sempre d'accordo su tutto. Avere un business parallelo, però, significa che non mettiamo tutta l'energia in questo progetto. Vi voglio vedere. Oppure mettiamo tutta la nostra energia in questo, che diventa il nostro progetto principale, che diventa la nostra nuova identità, che diventa il modo in cui noi da oggi ci presentiamo fuori. Anche quella è stata una scelta che abbiamo scelto, abbiamo scelto che cosa fare. Dopodiché sono iniziate scelte più pratiche. Quindi abbiamo iniziato dal classico business model canvas, che conosciamo tutti, dove ci sono una serie, anche lì, di domande che ci siamo fatte. Quindi, ok, target l'avevamo messo a fuoco, però c'è anche capire, ok, ma come mi posiziono? I prezzi che noi vogliamo fare? Quali sono i prezzi che noi vogliamo fare? Quindi abbiamo completato tutto il business model canvas, anche lì sono state discussioni per capire dove volevamo andare insieme. Dopodiché abbiamo iniziato a pensare alla nostra identità visiva e quindi ci siamo affidate e abbiamo iniziato a fare long way naming. Comunque dobbiamo farci conoscere insieme. Da sole siamo conosciute, insieme siamo un'altra cosa e quindi ci siamo affidate a questo. È una scelta che a vicore invece è in essere, è la forma societaria. Quindi capire se creare una società, se tenere le patite vive, cosa fare. Anche quella è una scelta che noi ancora non siamo ancora in fondo, abbiamo ancora deciso, ma è una scelta che dobbiamo fare per capire che è il one plan, un po' di fattura, come fattura, come scarichiamo, sono scelte. Quindi ci vuole un investimento, anche le scelte. Ok, quindi se dopo quello che vi stiamo raccontando vi abbiamo attivato qualche rotellina e qualche fantasia su collaborazioni o qualche passetto più in là con qualcuno, abbiamo raccolto qualche punto d'attenzione per qualche incidente o difficoltà che abbiamo incontrato lungo il percorso, ho fatto qualche suggerimento anche. Allora, lavorare, ideare qualcosa con qualcun altro, che sia qualcosa di piccolo o che sia qualcosa di grosso, richiede tempo. Quindi mettete in conto tanto tempo, non poco tempo vuol dire tolto da attività aperitive, tolto da attività commerciali, tolto da attività di delivery. Noi è da più o meno un anno che ne parliamo, da dicembre abbiamo un calendario strutturato e rigoroso di un fine settimana al mese, tre giorni full immersion, più di otto ore al giorno, dieci ore al giorno in cui lavoriamo insieme, poi alla sera ci vediamo, ci divertiamo, però sono giornate veramente spiancanti dal punto di vista lavorativo, più tutta una serie di incontri a distanza, perché la geografia non sempre ci aiuta, come avete capito dalla presentazione iniziale, che ci ha portato ad arrivare al punto di sviluppo che siamo oggi, che non è ancora completo. Secondo tema, non sempre siamo d'accordo, avete sentito questa frase, è stata disseminata un po' in giro. E' importante saperlo, ed è importante ragionare, scegliere bene la modalità di decisione, perché noi siamo numero dispari, e ne parlavo oggi con qualcuno, pensare di scegliere a votazione a maggioranza, non è una buona decisione, a proposito di decisioni. Lavorare a un progetto comune significa ragionare su aspetti di flessibilità individuale, di negoziazione, quindi questo non è sempre un passaggio facile per tutti, e quindi insomma dobbiamo mettere in conto anche di ingoiare qualche rospo, mettiamola così, chi più chi meno, e su ambiti diversi. Altro suggerimento, allora noi siamo state molto aiutate dal fatto che per mestiere facilitiamo il lavoro, e tutte e tre facciamo le coach, in situazioni e in ambiti diversi, però il fatto di lavorare insieme come gruppo, e non parlare solo del contenuto, di quello che dobbiamo decidere o fare, ma parlare anche di come lo stiamo facendo, quindi mi ricollego e siamo arrivate perfette dopo il talk di prima, sul fatto di scambiarci feedback, anche ruvidi delle volte, sul come lo stiamo facendo, ok? Perché questo migliora di gran lunga il livello di sintonizzazione e facilita molto a proposito tutto quello che arriva dopo. Scriviamo tutto, perché non ci dobbiamo perdere niente, anche se abbiamo tre memorie fenomenali. Ok, quindi scriviamo tutto. Tema ruoli all'interno di un gruppo di lavoro. Allora, fino a questo momento direi, quindi nella fase ancora di appio, i ruoli si sono configurati in maniera abbastanza naturale, assecondando un po' le caratteristiche di ognuna, ma arriva a un punto, e questo è il momento per noi, in cui invece sui ruoli bisogna prendere delle altre decisioni e quindi scegliere che configurazione dare ai ruoli per definire i ruoli. E' spontaneo fino a un certo punto, da un certo punto in poi diventa oggetto di decisione. E poi, dico cose spontate, ma noi ci siamo divertite, ci divertiamo un sacco, parliamo tantissimo di come cambiare il mondo e di come migliorare il mondo, ma poi dobbiamo parlare anche di quanti soldi abbiamo. Quindi, ci sono le rose, ci sono anche le spine, ma questo già lo fa. A me i soldi sono sempre rose, anche quando non ci sono. Ok. Allora, ultima cosa, e andiamo a chiudere anche perché comunque di strada ne abbiamo fatte, noi abbiamo un nome e abbiamo un pay-off, e adesso ve lo diciamo. Prima, questa cosa del nome è fondamentale, cioè ti metti insieme e dici, vabbè, ok, però adesso noi cosa siamo? Posso svelare il nostro prenome? Sì. Sì, lo dico. No, perché per un po' finché non... No, allora noi ci siamo affidate alle Slide Queen per tutta la parte di identità. E infatti adesso chiamo intanto Bobbi, la Bobbola, Bobbi, vieni. Bobbi. Venga, Elena Bobbola, venga, venga. No, ma è giusto, tu sei parte di questo progetto dall'inizio. Sei una delle autrici. eh? No, vieni, 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 vieni. Prima che le Slide Queen ci mostrassero delle proposte per il nome, noi comunque in identità ce l'eravamo data. Un altro per il gruppo Whatsapp. Eh, c'è anche Malou, c'è anche Malou, il santino della Malou. Comunque, pre Slide Queen noi eravamo occhi di gatto. Abbiamo ancora una cartella Drive che si chiama occhi di gatto. C'era tutto di occhi di gatto e che non potevi andare sul mercato con quel nome di se no era giusto. Vabbè, post occhi di gatto siamo diventate allora adesso vi presento così faccio la presentata Valletta le Purple Dot e il loro pay off è connettiamo persone, strategie e processi. Poi ve la raccomandiamo meglio adesso è un altro momento dello scottone ma ci faceva piacere coinvolgere Elena perché ci hanno veramente aiutato tantissimo a ragionare quindi poi nelle scelte nel lavoro nel tempo che abbiamo dedicato tanto tempo l'abbiamo usato per rispondere a loro con puntualità con precisione e poi non arrivavano e ci dicevano questa risposta non è chiara vi falla ed è stato impegnativo e bellissimo a Frecqua 3-4 mesi chi mangia la pubblica tanto lei non c'è basta finito per qualsiasi cosa siamo ancora grazie se volete gestiamo un momento per chi vuole domani tra un palazzo Grazie a tutti.